Ok Ivan, adesso però dicci un po', spoilerci un po' di che cosa parlerai. Allora, non dovrei fare lo spoiler, però solo per voi iscritti. Un accenno. Un accenno, parlerò della mia esperienza, del mio progetto che ho fatto a casa mia, quindi del capotto termico interno che ho fatto, che ho iniziato nel 2012 e che adesso ho una casa tutta a zero emissioni senza gas. Lo sto raccontando prima a voi che a loro, che dietro negli studi che vedete. Ecco, poi racconterò del canale YouTube, di tutti voi che mi avete sempre sostenuto e che mi seguite. Di tutto quello che comunque sapete di casa mia e quindi dei lavori che ho fatto all'interno con il sughero. Ah, ho portato anche il sughero! Sì, sì, ho portato i pezzi di sughero. Ma Ivan, alla radio non si vede il sughero però. Sì, si vede. Non so, ma hanno detto che fanno anche il video. Solo che il video non so se lo prenderò perché hanno detto che questo 89 euro è già stata una spesa. Vabbè, è stato bello. Sono a Bologna. Siamo a Bologna. Siamo a Bologna negli studi di Storytime. Ok, bellissimo. Va bene, allora siamo tutti curiosi di vedere come andrà questa nuova esperienza. Sì, e poi volevo ringraziare la mia compagnia attrice e videomaker, Enrica. Eh sì, improvvisata. Improvvisata. Ok, a dopo. Grazie. Ciao.